Ultimi giorni di rialzo per quanto riguarda Bitcoin e anche per quanto riguarda alcune criptovalute che recuperano dopo le fasi di sell-off leggero che erano avvenute nella parte finale di aprile e inizi di maggio. Questa fase di recupero di Bitcoin può essere qualcosa di più, cioè può essere anche una fase che lancia una nuova zona di bullrun leggera rispetto a questa invece fase che è stata un laterale ribassista che ormai pigge da oltre un mese e mezzo, quasi due a dire la verità perché stiamo arrivando vicino alla metà di maggio e quindi due mesi e mezzo di laterale ribassista. E' questo il tema di questo video che andremo a fare oggi ragazzi e recuperiamo anche il Bitcoin Monday che ieri abbiamo perso perché sono in viaggio e però allora questo Bitcoin Monday che trasferiamo oggi a martedì tratterà questa tematica. In più tra le altre cose andremo a vedere anche ETH perché anche ETH sta disegnando una fase importante tra le altre cose ancora un po' più deboluccio rispetto a Bitcoin. Poi vi faccio vedere un collegamento, una correlazione che esiste, una relazione anzi direi di più, che esiste con Nasdaq 100 che spiega anche questo movimento rialzista di Bitcoin molto rilevante e ovviamente prima però di fare tutto questo tipo di analisi andremo a fare un briefing sugli ETF e sul calendario economico e la questione tassi in attesa diciamo anche per giugno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e ragazzi allora quello che è successo in questa fase rialzista di Bitcoin è veramente interessante e soprattutto lancia un po' una serie di interrogativi. Quindi è iniziato un nuovo ciclo mensile sì o no da un punto di vista di analisi ciclica questa cosa è positiva o negativa e vi assicuro non è del tutto positiva una fase di recupero da questo punto in poi perché in realtà forse per chiudere i giochi sarebbe stato meglio assistere ancora a qualche giorno di debolezza con una zona del genere piuttosto che andare a fare una fase invece più duratura perché quello sposterebbe poi le attenzioni ai prossimi mesi quindi da metà maggio in poi. Allora ovviamente se saliamo a bomba e facciamo nuovi massimi ok però se non saliamo a bomba una fase di perdita di tempo creata così allunga solo il brodo come si suol dire ma non genera una nuova fase che può essere magari cavalcata eccetera. Quindi bisogna fare molta attenzione questa zona qui ha due giorni circa due tre giorni per esprimersi vi faccio vedere un livello dove potrebbe arrivare a chiudere questa fase e poi soprattutto il significato importante a livello ciclico di questo tipo di zona. Prima di andare avanti però ragazzi ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ma volevo farvi vedere una serie di cose intanto il calendario economico di questa settimana realmente molto spento quasi nulla in pratica Ma la questione tasso di interesse è interessante cioè il PONC che arriverà tra 36 giorni circa che è quello di giugno ed è importante perché? Perché quelli trimestrali tra marzo giugno fevere settembre e dicembre sono quelli un po' più importanti e rilevanti però ancora una volta non c'è nessuna aspettativa di riduzione dei tassi Quindi tutto quello che ci eravamo detti all'inizio dell'anno che la Fed stessa stimava cioè la possibilità di poter ridurre i tassi di interesse già dal giugno di quest'anno E viene meno ragazzi viene meno perché perché il tasso di inflazione è stato più sostenuto del normale assolutamente non c'era questa aspettativa all'inizio dell'anno E quindi ancora una volta l'economia è troppo forte tassi sostenuti ancora al rialzo ma tra le altre cose neanche settembre è visto tanto bene Perché anche qui alcuni si aspettano una riduzione di 25 basis point ma altri addirittura no è solo a dicembre del 2024 che sembrerebbe si dia per scontato la riduzione di almeno almeno 25 basis point Tra 25 e 50 basis point di tasso di interesse quindi dovremmo attendere un po' da settembre in poi Però ragazzi da settembre in poi non è malaccio perché potrebbe essere una leva ulteriore che potrebbe spingere i mercati delle criptovalute soprattutto le altcoin in questo caso a performare meglio Perché sappiamo come sono estremamente reattive alla questione della liquidità Andiamo a vedere invece la questione legata agli ETF spot di bitcoin che hanno vissuto qualche giorno positivo Anche che per la prima volta GBTC è riuscita a non performare negativa Comunque guardate ancora una volta come c'è una linearità perfetta con le riprese di bitcoin in termini di price action rispetto alle emissioni di liquidità degli ETF Incredibile guardate qui fase di ribasso poi leggero recupero emissione di liquidità 1,2,3 Poi qui stessa identica cosa fase di ribasso qualche giorno prima e poi emissione di liquidità ripresa ancora una volta fase di ribasso qualche giorno prima Qui il sell off è stato sviluppato anche da un punto di vista di inflow degli ETF che è stato molto negativo nella giornata dell'1 maggio E poi nuovamente ripresa 1,2 Quindi totalmente legata bitcoin a questo andamento degli ETF che infatti dal 3 poi nella giornata di ieri sono stati leggermente positivi Anzi insomma abbastanza positivi perché comunque l'inflow è stato importante soprattutto quello del 3 maggio in termini di dollari Però anche qui lo vedete in termini di bitcoin comunque è stato insomma abbastanza rilevante anche il total net inflow in termini di bitcoin Allora detto questo vediamo se queste ETF continueranno a fare questo su e giù perché guardate 1,2,3 giornate positive le avevano già fatte anche 4 rispetto ai giorni scorsi Vediamo domani come va anzi è una giornata di oggi vediamo come va però poi bisogna ragionare sul capire se effettivamente ci sarà possibilità di assistere a più giorni fatti appunto in questo modo Soprattutto di questa entità che erano veramente importanti Allora andiamo a fare invece un briefing sulla questione legata al ciclo che vi dicevo Allora questa fase di recupero dura circa circa da 5-6 giorni con la giornata di oggi è un ciclo settimanale? Certamente sì Questo ciclo settimanale se si appresta a chiudere positivo come sembrerebbe cioè se non va al di sotto di questo minimo e fa una chiusura così entro i prossimi 10 giorni Quindi 10 giorni qui lo avremmo nella giornata di sabato massimo io direi che comunque mercoledì giovedì è la giornata sono le giornate più importanti Quindi domani dopo domani perché se diciamo entro domani dopo domani non scendiamo al di sotto di questo minimo per me questo è un ciclo 3 sì che si definisce così Quindi un ciclo settimanale che sarà identificato come un ciclo positivo quindi rialzista intendo con un minimo superiore al minimo in questione Questo ciclo tra le altre cose è importante perché lancerebbe anche un ciclo mensile Ora le giornate di debolezza sono da oggi a giovedì di questa fase di bitcoin quindi se vuole in pratica continuare il movimento precedente Ovviamente questa figura di rimbalzo finisce qui questo ve lo dico in maniera molto chiara perché se questa zona non è chiusa ma deve continuare Questo movimento è un rimbalzo del gatto morto e faremo una cosa del genere entro sabato circa perché il ciclo settimanale non potrà essere rialzista Se invece qui abbiamo un ciclo settimanale rialzista indicheremo in questo punto l'inizio di un nuovo ciclo mensile e quindi probabilmente questo minimo resisterà quello dell'1 maggio anche per due settimane almeno Quindi fino teoricamente anche alla metà di maggio quel minimo dovrebbe teoricamente resistere cioè il minimo di 56k insomma più o meno 56.500 dollari Questa fase però poi andrà identificata perché se qui è iniziato un nuovo ciclo mensile allora indicheremo anche l'inizio di un nuovo trimestrale In questo punto è la conclusione del trimestrale precedente che è stato un ciclo molto alto molto rialzista fatto in questo modo diviso appunto in queste due strutture E da 99 giorni è lungo ma non è abnorme quindi non è anormale rispetto a bitcoin ci può stare tranquillamente anche che abbia chiuso il trimestrale Ve l'avevo già indicato nel video che vi ho fatto giovedì il problema dov'è che l'inizio di un nuovo trimestrale da qui con un nuovo mensile Non elimina la possibilità che questa eventuale fase possa essere comunque appartenente al precedente ciclo annuale E che non abbia in pratica più nessuna velleità di fare nuovi massimi ma si comporterà in questo modo in sostanza Allora su questo tema su questo tema ne discuteremo nei prossimi video perché ho anche da dirvi una cosa molto importante sulla questione ciclica di lungo periodo Cioè questo ciclo annuale che dovrebbe essere sviluppato qui e voglio prima avere conferma dell'inizio di un mensile qui di un nuovo trimestrale eccetera Quindi la prossima settimana parliamo di questa questione perché non è detto che ci sia simmetria ciclica tra il ciclo precedente che abbiamo visto qui Che è questo qui e quello attuale creato in questo modo Cioè noi lo stiamo ponendo identico al precedente ma i mercati non sono così sempre quindi a volte fanno le cose precise Però dobbiamo anche tenere in considerazione che questo ciclo centrale potrebbe essere un annuale normale E che quindi vada a spasare totalmente tutto quello che abbiamo visto Insomma di questa cosa è un po' complessa ragazzi ne parliamo con calma Intanto prima valutiamo quella la questione di questa settimana che come vi dicevo ha anche un livello tecnico molto importante Cioè un fair value gap a livello daily che è stato aperto in questa candela che vedete qui In questa candela qui cioè un'attrazione di questi prezzi che dovrebbero andare a chiudere proprio in questa zona Anche facendo appunto un settimanale rialzista cioè in zona circa 60-61 mila dollari Che sembrerebbero attrattive di questa zona Ora a livello operativo come vi dicevo già nel video di giovedì Il trade long di questo ciclo poteva essere fatto Anche un'eventuale chiusura del settimanale intorno a zona 60-61 mila Non più giù anzi sarebbe meglio teoricamente in zona 61 mila è qualcosa Quindi non sotto i 61 mila potrebbe essere un buy Un buy a inversione sempre perché inversione significa che prima scende qui ragazzi e poi inverte Quando inverte io vado a buy Inverte su un time frame non daily ovviamente Un'operazione di trading quindi su un time frame più piccolo Però nel momento in cui fa una cosa del genere potrebbe in effetti chiamarci l'ingresso Perché sancirebbe l'inizio di un nuovo ciclo mensile E quel nuovo ciclo mensile avrebbe tutte le possibilità di fare nuovi trend rialzisti Insomma nuovi massimi non so perché appunto dipende da quella questione lì che vi dicevo Di cui parleremo dopo la conferma di questo movimento Però sicuramente potrebbe durare almeno un paio di settimane Quindi l'eventuale trend potrebbe spingersi anche intorno ai 70 mila dollari In questa zona qua con tranquillità direi 68-70 con tranquillità Quindi partendo appunto da 61 eccetera Un 10% che in un contesto di trading range come questo non è assolutamente malaccio Allora detto questa fase qui andiamo a vedere vi faccio vedere anche TH come conferma Anzi facciamo una cosa vi faccio vedere NASDAQ perché è una fase di NASDAQ che ha spinto E ha sostenuto anche un po' Bitcoin in questi giorni perché proprio in questa fase qui NASDAQ dal 19 di aprile ha iniziato un nuovo ciclo semestrale e un nuovo ciclo mensile Nuovo ciclo semestrale che il precedente era avvenuto molto semplice così Da circa 180 giorni e poi è arrivato il secondo dell'annuale Questa fase teoricamente di NASDAQ deve fare nuovi massimi Se non fa nuovi massimi ai 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 sarà molto pericoloso Quindi attenzione a questa fase qui che secondo me ha tutte le carte in regola Per fare nuovi nuovi massimi però bisogna attenzionare Tra le altre cose vi faccio vedere una cosa particolare Cioè il rimbalzo di Bitcoin non ha forse relativa rispetto al NASDAQ in questo momento Perché Bitcoin ha fatto un'app e un nuovo minimo e ora quest'app qui Quindi o Bitcoin adesso segue la chiusura ciclica di NASDAQ che inizia una fase più rialzista Oppure diciamo che ha perso forse relativa rispetto al NASDAQ Poi magari durerà poco ovviamente però non sono sempre sincronizzati i due mercati No rispetto come sembra Anzi negli ultimi periodi sono stati molto più non sincronizzati Rispetto al solito Bitcoin ha recuperato un po' quella che era la sua autonomia Rispetto ai cicli precedenti Vi faccio vedere anche A proposito volevo parlarvi anche di questo grafico Però nel video di oggi mi sa che non riusciamo Perché la configurazione di alcune candele è molto rilevante Soprattutto questa candela qui che è avvenuta proprio a chiusura della settimana scorsa Ve la porto diciamo nel prossimo video che dovrebbe essere tra l'altro domani Allora vi faccio vedere la questione di Ethereum Ethereum ancora una volta sembra proprio che anche lui qui voglia iniziare un nuovo ciclo trimestrale Ma di questo ve ne avevo già parlato Il fatto che TH un po' di più rispetto a Bitcoin indicasse una specie di trimestrale in fase di chiusura Ora non ne abbiamo Non abbiamo tutti i dati definiti in questo caso Però da qui in poi Sembrerebbe proprio che Anche insomma ETH potrebbe insomma iniziare a dare spazio a questa struttura qui Attenzione a Ethereum ragazzi Perché è molto più debole di Bitcoin Non in termini assoluti Che sembra un'odina molto più debole Come se si dice sta crashando Non è questo Però guardate come la struttura di ribasso di ETH È stata già in chiusura del Fair Value Gap Che era stato aperto in questa zona Quindi a differenza di Bitcoin Che ancora si trova qui E dovrebbe chiuderlo E non ha la forza per chiudere il Fair Value Gap Su ETH invece è stato già chiuso nella giornata di oggi In pratica con questo minimo Che è andato a posizionarsi Proprio come vi dicevo Guardate un po' al centro di questa candelona Del 3 di maggio È come se Bitcoin insomma facesse la stessa identica cosa Ora Un'eventuale ripartenza di ETH E un superamento Prima di questa zona 3200 E poi di questa zona qui Stancisce l'inizio di un nuovo trimestrale Al 100% Su ETH Il trimestrale che Andremo a valutare Ma potrebbe essere debole Perché teoricamente Per essere molto forte Dovrebbe andare al di sopra Dei 4100 dollari Cosa che al momento Non sembra essere fattibile Potrebbe in sostanza Fare un trimestrale del genere E poi chiudere Tutta la struttura ciclica Attuale Per poi spingere successivamente Appunto come vi dicevo Vi dicevo nel video di giovedì Da fine giugno In poi E quello Insomma Resta la struttura Più importante Attenzione ragazzi A non sottovalutare Questi cicli Perché Se dovesse fare una cosa del genere Sarebbe molto positivo Per ETH Molto positivo E molto di più Di quello che Potrebbe essere Si potrebbe immaginare Considerando il fatto Che noi qui parliamo Di una zona Laterale Laterale O rimpassista Perché è un accumulo Perché una cosa del genere Porta spinta Per il ciclo precedente Quindi ok È vero Che una zona del genere Non è bella E noi ci vogliamo sempre Vogliamo sempre Aspettarci un'app Eccetera Però a volte Bisogna anche lasciare riposare Il mercato E un riposo di quel tipo Sarebbe forza Indicherebbe forza Nei prossimi cicli Quindi perché no Allora Morale della favola Allora Attuiamo una politica Di attesa Di bitcoin Per domani dopo domani Vediamo se chiude Questo fair value gap Possibilità di ingresso Per i trader Per i trader Di brevissimo periodo Proprio sul fair value gap Con versione di trading E quindi In versione di tendenza Su time frame Molto brevi Per il trade Poi del prossimo ciclo Di 2-3 giorni Quindi parliamo appunto Di trading Ragazzi Interessante Questa qui è andata bene Per esempio L'ingresso È stato fatto L'abbiamo fatto anche in academy Con uno dei miei bop Quello di brevi periodo Invece con le posizioni grosse Sono ancora fuori Ha chiuso Però Già chiuso Tra le altre cose Mi sembra che stia Abbia fatto un nuovo ingresso Che forse In questa fase Potrebbe andare anche In stop leggero Però L'ha rifatto Però ha chiuso In forte gain Insomma Questa fase Di recupero Perché era Entrato a 58 Circa Stessa identica cosa Potrebbe essere La chiusura Di questa zona E poi un eventuale Reingresso Che sarebbe invece Interessante Attenzione invece A fase di bassiste Che ancora una volta Vi dico Io non disapproverei Soprattutto in questa settimana Perché Indicherebbero la continuazione Del movimento precedente E quindi Che ancora una fase di recupero Non è avvenuta Quindi poi potremmo Attenderla Con più calma E anche più forza Nei giorni precedenti Valutiamo tutto Dopo questi due giorni Perché se qui È iniziato un nuovo ciclo mensile Dobbiamo poi Prenderne atto E cambiano alcune cose Molto rilevanti Nel medio Lungo periodo Di cui parleremo Appunto Nei prossimi video Ciao a tutti per oggi E noi ci vediamo appunto Domani credo Nel prossimo video Ciao ragazzi